Il scotter d'assalto nemico in zona, distruggetelo e recuperate il tenero! Il scotter d'assalto nemico in zona, come non detto. Il scotter d'assalto nemico in zona, distruggetelo e recuperate il tenero! Il scotter d'assalto nemico in zona, distruggetelo e recuperate il tenero! Il scotter d'assalto nemico in zona, distruggetelo e recuperate il tenero! Grazie a tutti.